L'ospedale Mazzini di Teramo sta perdendo o no il primario di cardiochirurgia? Come risponde ai rumors? Allora, sotto l'aspetto formale noi non abbiamo alcuna notizia perché il rumors che fa riferimento ovviamente a una graduatoria pubblicata presso l'azienda ospedaliera di Ancona per l'analoga disciplina e che vede il dottor Deusanio, primo classificato, ovviamente può lasciare presupporre questo però questa è una scelta legittima dell'interessato sia quella di abbandonarci e quindi verso altre attività probabilmente più qualificanti oppure quella di restare vedremo nel momento in cui ci saranno i tempi tecnici perché l'interessato possa fare la scelta, quale sarà questa scelta la cosa è che la cardiochirurgia a Teramo c'è, resterà e resterà sempre su questo punto, se ci saranno scelte di questo genere l'azienda immediatamente e tempestivamente farà e adotterà soluzioni altrettanto qualificate Comunque conferma che eventualmente è una scelta personale del primario? Io ritengo di sì, al di là delle difficoltà oggettive che esistono all'interno dell'azienda per quello che concerne l'organizzazione di tutti i servizi come tutte le aziende di piano di rientro le limitazioni di personale che pure esistono io non sono a conoscenza di motivi specifici per cui è stata fatta una scelta di questo genere se scelta ci sarà Qualora non ci fosse stato un direttore di unità operativa complessa di cardiochirurgia in quel momento, cioè qualche mese fa certamente saremmo stati deboli sul piano della rappresentazione delle nostre qualità in ambito regionale Ovviamente, logicamente, la scelta della regione era basata anche sul fatto dell'organizzazione esistente a Teramo Grazie a tutti